oi 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 aspetta! questa non la volevo leggere io benvenuti a... vabbè non si sa cosa esiste davvero... ... benvenuti madonna santa, benvenuti non ha sbagliato neanche una lettra no, cioè, il pro gamer quando si impegna allora c'ho un libro, vediamo questo è il passato? non c'è altra spiegazione non ci sono tutti quei funghi in giro e nessuno sta tossendo Beh, sicuramente dovrei cercare un dottore per essere sicuro di stare bene E magari anche qualcuno che conosca lo scienziato che sta svolgendo le ricerche sui funghi Ho trovato un diamante Bene, io riposo il libro Ok, dobbiamo trovare? Se vuoi andarlo a posare già nell'ender chest che c'è, così almeno no Boh, non lo so, non lo capito cosa dobbiamo trovare, giriamo un po' Ok, se muori prendi una fila, no Cosa c'è lì? Cosa c'è lì? Dove, 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 dove? Mi lascia da solo Casa delle tre, grazie Grazie, grazie alle grazie al cazzo Grazie a sta minchiazza, no? No, veramente? Ah, un diamante Un pollo, un pollo crudo, un pollo crudo, un pollo crudo, un pollo crudo, un pollo crudo Ancora una volta? Pane, 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 pane e pesce Boh Un altro libro Vado dalle tre truzzorelle Come dici? Se conosciamo uno scienziato? No, però forse il tizio che vive in quella casa appesa sulla, appesa alla montagna sa qualcosa Siccome è l'unico che possiede una televisione qui Perfetto Dobbiamo andare da dove c'è un tizio con, con una casa Quanto cibo? Pesce cotto, pesce cotto, pesce cotto, pesce cotto, pesce cotto Chi c'è qua sopra? Cosa c'è? Nessuno Chi c'è la sopra? Chi c'è la sopra? Ma forse l'ho trovata, forse, sarà quella? Letti, 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 sto scendendo Guarda Sarà quella? E' appesa Ma no, ma scusa Ma questa casa che c'è qua di fronte? Ma non è appesa? Ah vabbè, possiamo visitarla? Perché si aprono le porte da sole? Io, zombie? No, cioè, fantasmi Vedi, vabbè, ragazzi si aprono la porta da sole, ci sono i fantasmi Oh, cazzo Casa di Adolf, Adolf, Blaine, Charles, David, Edt, Frederick, Gerald, Hubert, Irving, John, Kenneth, Lee, Lloyd, Martin, Nero, Oliver, Powell, Quincy, Adolf, Randolph, Sherman, Thomas, Uncas, Victor, William, Ehre, Lassi, Wolf, Erwin, Mondati, PS, qualche nome esiste davvero Immagino Ma, bella, oh, Gio, se vieni qua sopra, qua sopra c'è un party, io propongo un Harlem Shake, sali su Questo qua deve essere, questo qua deve essere, Adolf, Adolf o qualcosa Eh, Giojina, sali su Eh, qua sopra c'è un Harlem Shake Io propongo F5 appena sali su Ma dove cazzo sei? Io ho trovato una cesta con l'acqua Vieni qua! Sto arrivando! Mi so chiusa fuori Sto arrivando! Pane cazzi, qua c'è un libro Oh, un Harlem Shake, vai Dottore, ho trovato il libro del dottore Comunque, un Harlem Shake, io propongo l'F5 ferma Dai, facciamoci un balletto Mettiamo l' Harlem Shake Ok, basta, dai, basta, stop, 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 aspetta una fappata al volo con questa come che ci sta Ok, yah, yah, yah What is Happening, scusa? Aia! Oh, ho, ho, ho Gli ho tirato tipo una capellata Scusami Dottore, vediamo un po', vediamo un po' cosa dice sto Salve, come dice Ha un brutto mal di gola e continua a tossire Aspetti la visito subito Puntini, puntini, puntini Le assicuro che lei non ha niente È solo un banale raffreddore Non ha nessuna malattia virale Quando esce cerchi di coprirsi bene Ma ha visitato me o il mio personaggio Su Minecraft Come se conosco uno scienziato Non ho idea di cosa stia parlando Bene, ottimo Anche qua non sanno nulla Andiamo Cos'è il suo buco? Non lo so Chi è stato? Vabbò, buttiamoci di sotto Ah, a casa di Gesù Ma la Maddalena La Giuseppe cattrullato padre P Vabbè, sì, ci sono tutti Andiamo Poco ci sono delle scale Ci sarà adesso qualcuno Ah, non lo so Una casa appesa alla montagna Da dove l'hai letto? No, da nessuna parte Casa di Mitaere Vabbè, vabbè Mitaere Ah, no, qua è una terrazzina No, hai Trollo Ah Non è una tv Ma almeno ci ho provato su via Accenditi Aspetta Ah, bisogna mettere la spina Ho trovato una leva E qua c'è un libro La raffineria Vediamo un po' che dice Se conosco uno scienziato Certo, l'ho visto in televisione L'altro giorno Sta svolgendo delle ricerche Su uno strano fungo Se devo dire la mia Sti scienziati Prima o poi Cambieranno No, combineranno Qualche casino Comunque Il direttore Della raffineria Della lava Che si trova qui No Che si trova vicino a questo villaggio Guarda caso E suo fratello Forse lui sa dirti Dove si trova lo scienziato Prendi questo Lascia passare E vai a cercare il direttore Perfetto Il lascia passare L'ho già preso Cosa mi dai tu Se ti do due smeraldi Mi dai cinque frecce Peccato che non ho l'arco Non io ho l'arco però Ah boh Ho 19 frecce Se la cosa ti può Non ho una tv Ma almeno ci ho provato Su via Eh se io ci ho attaccato alla presa E c'era youporn in diretta Non mi chiedere perché Perché si è abbelenato il villico Vabbè passamolo Posso fare adshot al villico No dai lascialo stare poverino Tieni le frecce Ma si incazza se io lo faccio Ma che cosa ne so Tieni le frecce Troviamoci Whataf Minchia nuvoretta Sta prendendo fuoco Controllato Dai andiamo 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 Vai 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 Io non te voglio guardare il culo Duro Non te voglio Scendo Ho sbagliato Madonna Madonna Che donna Donna E il monte E se scende Se scende Guarda guarda scorciatoia Si è buttato di sotto Scormata Oh quasi però Ho sentito il legno E dove è? E da dove dicevo io Sarà quella no? O è quella che vi ha visitato? Raffineria della lava Oh una cessa Raffineria della lava Un altro diamante E dove cazzo Do io andavo? Eh boh Segui il legno Segui la scale Ah vabbè Alla grotta Ah ok Seguiamo Segui resta roba a terra Vedo qualcosa di dietro Vedo anche io proprio Pongo di andare di qua Parkour Ma ti togli da Ma che cazzo Aspetta La vai a prendere Tu la cessa Cobra Diamante Devi andare di là Oddio Stavo cadendo nella lava Che cosa? Oddio se lo guardi da qua Quello affare Sembra un Rango Oddio Minecraft Oh game è il 360 Minecraft engine Raffineria della lava Cos'è range qua Minecraft engine Minecraft shit Raffineria della lava Ok Oddio 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 Chi Oh muori Eh ma cos'è sta cosa? Eh sembra tipo I totem Quelle cose Non so Funghi 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 Andamocene via Non voglio dei funghi Scheletros che va sotto terra Tipo Non so Perché Scusa Per qualche strano motivo Ma non so Raffineria della lava Eh vedi come è nella serie Narcore Mi raccomando Di farlo Eh non Sticipiamo niente Ah ok Usa qui Lascia passare Usiamo Lascia passare Era una leva Magari Ma dai Tieni qua Oh ma Tieni qua Hai due frecce Conficcate nella schiena Ma le togli Gintilmente No non riesco Scusa Ah vabbè Sei donna Ah Ma hai visto che figo Oh mio dio Guarda giù Io volo giù Che bello Vero Quasi quasi raga Trollerei Guarda che si mette con shift Bellino Bellino Quindi stami lontana dal mio culo Ma ti sarei io che dovrei Inchiappettare la gente Dai 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 Non stavo scherzando Era solo per guardare il culo Nel tuo personaggio Stop Eh Quella cosa sembra Dico Arrivateci voi E cosa sembra Guardate La Io Io non faccio commenti Cosa c'è qua Un libro Capitolo 7 La raffineria Della lava La dietro c'è Una Cesta Come ci si arriva Si arriva Fai tu Si arriva Mi ho paura Mo mi trolla vuoi vedere Oh Siamo al capitolo 7 Non te lo volevo dire però Eh si ho visto Infatti Boh Bella Che fa dormiamo Ma che notte Come ci Eh aspetta Io sto tentando I prendere guardia Ma guarda Che sono là Sono Come sei passato Sei pro gamer Diamante Lol Vabbò dai Betta edifici Via raga 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 il pro Raga il prosciutto Checkpoint Notte pure notte Notte cara Notte carissima Eh notte Disgraziato Che vuoi Vabbè 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 L'ag Non carica mondo Né niente No ma sotto Mi sa tanto che proprio così Hanno sfondato tutto apposta Sì 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 Perché se Cioè nella minimap Io non ho proprio niente Cioè ho il nulla Ho il vuoto Va bene Eh siamo arrivati al capitolo 7 La raffineria della lava Di sto cazzo Esatto Eh di butta Eh al rovescio Boh ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio con il capitolo 7 Bella raga Un saluto da It's Crumbits E Jokalian Bella a tutti Ciao Ciao a tutti